Musica James, Athena ha trovato la posizione del dottor Koenig. Ma dai, forse lo rinchiuderò in una stanza piena di infetti sanguinari, vedremo se gli piacerà. Ti sto inviando le coordinate, devi fermarlo James, è uno dei migliori scienziati della Gentec. Questo è più che sufficiente. Sono le coordinate di Koenig. Cosa vedi? Un varco per entrare. Un varco per entrare. Hai un po' di DNA? ha? Grazie. Hanno un sacco di sicurezza qui. Dio mio, chissà che razza di esperimenti stanno lavorando. Io lo so. Era una cavia. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma non importa, devo avvertirti. La gente che sta sviluppando un programma chiamato Orion stanno creando, come posso dire, dei super soldati e li manderanno contro di te, sergente, anche se tu potresti fermarli se agisci immediatamente. Dunque dovrei fidarmi di te. Lascia che ti aiuti, ti prego. Ho il senso di colpa, mi distruggerà. Se dici il vero parleremo ancora. Ti prego, ti prego. Il tempo stringe. Il capo dei ricercatori è il dottor David Burke. Sbrygati. Accesso concesso. James, ti sei occupato di Koenig? Non proprio. Ora ho dei problemi più grossi. Ha sentito del progetto Orion? No, cos'è? Un branco di super soldati mutanti che mi dà la caccia. Che hijo de puta. Fai attenzione, James. Dottore, sono nella struttura. È pieno zeppo di guardie, sono dappertutto. C'era da aspettarselo. Se distruggi quei sistemi di comunicazione, non riusciranno a chiamare i rinforzi. Non riusciranno a chiamare i rinforzi. We Rattler 2-1, lo stile ha distrutto la torre di comunicazione 1. Ricevuto, fate fuoco sul bersaglio. Ripeto, abbattete subito il bersaglio. James Teller! Hai, chi sono io? Progetto Orion. Mi sono offerto per il progetto Orion. Hai fatto a pezzi i miei amici strappandogli gli altri. E ora potrò fare lo stesso con te. Ehi, König, credevo avessi detto che il progetto Orion non era attivo. Esatto. Sì, e allora contro chi cazzo sto lottando? Oh, cavolo. Non va bene per niente. Bene, spezzatevi il collo. Orion a terra! Abbattete il nemico! Dottor Berg, il bersaglio sta stavotando la centrale. Riparatele, idioti. Non possiamo perdere la struttura. Porca puttana, l'intera struttura è compromessa. La struttura Orion è in condizioni critiche. Evacuazione del personale in corso. Quanti ce ne sono lì di questi stronzi? Qualcuno ha mangiato tutti i suoi spinaci. L'agrazione del personale in corso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore, abbiamo dovuto evacuare la struttura. Non c'è più niente. Tutto è stato distrutto. Il progettorio ne è perduto. Non ancora. Abbiamo ancora il soldato fase 2 nei nostri laboratori. Possiamo clonarlo e continuare le ricerche qui. Aller, tutto bene? Il dottor Burke ha detto qualcosa su dei terreni di prova. Cerca di scoprire di cosa cazzo si tratta e fammelo sapere. Non c'è più niente. 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 Non c'è più niente.